Proteste femministe in Turchia dopo la polemica scatenata dal presidente turco Erdogan è stato criticato negli ultimi giorni per aver detto che le donne sono state affidate da Dio all'uomo. Una polemica che si inquadra dopo lo stupro e l'assassinio di una studentessa di ventenne da parte dell'autista di un minibus. Migliaia di persone sono scese in strada in diverse città del paese, oltre 15.000 vestite di nero in segno di lutto.